Abbiamo creato un coordinamento tutela mare, tutte le associazioni ambientaliste che si sporcono le mani sul campo per la tutela del mare e insomma da anni ci battiamo per la tutela del parco e la gaiola ma del mare in generale. Luogo di singolare fascino al bordo dei campi flegrei, l'area protetta della gaiola accoglie preziosi resti di epoca romana con la sovrastante villa di Publio, Vedio e Poglione nel parco di Pausilipon immersi in un ecosistema marino di straordinaria ricchezza. Nonostante sia un luogo da proteggere e tutelare è anche un luogo vissuto dove i cittadini possono unire a fare il bagno, nuotare su reperti e strutture di 2000 anni fa e finalmente questo è percepito dai cittadini, dai turisti che incominciano a vivere questo luogo per quello che è, quindi un prezioso gioiello della città di Napoli che deve essere tutelato e deve essere fruito in maniera sostenibile. In un incontro al MAN il direttore del parco ha illustrato i risultati del modello di gestione che permette ai cittadini di godere della spiaggetta secondo regole che tutelano al tempo stesso il delicato habitat e i reperti archeologici. In una spiaggia piccolissima, di poco più di 400 metri quadri, grazie a una gestione molto efficace riesco ad andare 400 persone al giorno, 200 di mattina e 200 di pomeriggio, quindi gli organizzatori a partire da Maurizio Simeone hanno dato un'efficienza al sistema, poi sono ritornati i cavallucci di mare, quindi si va da una protezione marina straordinaria fino alla fruizione di un'efficienza notevolissima, quindi il Comune, avendo ricevuto anche pareri favorevoli dal Ministero dell'Ambiente dal Ministero della Cultura, dalla Prima Municipalità, ha senz'altro già rifirmato la Convenzione anche per quest'anno. Col progetto STAM, Stazione Ambientale di Monitoraggio Marino, è in corso il restauro parziale della Villa Ottocentesca della Gaiola. Hanno dato un grande esempio di gestione di un sito particolarmente complesso, che come è noto abbina ai beni culturali, all'archeologia, anche il paesaggio e l'ambiente. Dunque io credo che la soluzione per tanti siti di Napoli siano esempi di sperimentazione pubblico-privato di questo tipo e che questo modello possa essere in qualche modo ribaltato e replicato in tanti altri casi della città di Partenope.